ciao a tutti sono riccardo masini e questo è blog allora una puntata di blog un po diversa da solito perché in questa puntata diciamo voglio un po ripetere per chi non c'era per chi non era presente la presentazione fatto l'evento sulle tracce del drago all'aquila il 3 settembre scorso all'inizio di settembre so dall'organizzazione che il video del mio intervento su questo argomento sul valore didattico e formativo del wargame è in lavorazione dovrebbe essere pubblicato a breve ma purtroppo durante la manifestazione come spesso succede ci sono stati un po di cambiamenti dell'ultimo minuto quindi non è stato possibile mostrare questa presentazione e volevo appunto condividerla con voi è stato un intervento nell'ambito di questa bella manifestazione sulle tracce del drago manifestazione dedicata al gioco al fantastico alla narrazione molto molto bella che si tiene ogni anno all'aquila e un intervento che appunto è stato fatto nell'ambito dei seminari collaterali alla manifestazione nello specifico un appuntamento dedicato poco al gioco di simulazione prima di me aveva parlato mauro faina trovate il suo video credo già sul canale già un po da tempo e poi parlato io e poi parlato anche mio padre sergio masini mauro faina ha ripercorso un po l'utilizzo diretto nella didattica del wargame nel gioco di simulazione parlando della sua esperienza il suo libro sulle sulla storia del mondo in centro wargame la sua esperienza poi con il progetto di didattica quindi l'esperienza scolastica diretta e mauro è un dirigente scolastico quindi che ex professore quindi effettivamente ci sta tutto mio padre a mi invece ha un po ripercorso quello che è stato un po l'inizio in italia del gioco di simulazione ma anche il rapporto stretto che c'è stato fin dall'inizio tra gioco di simulazione storia e cultura il mio intervento invece è concentrato su questo su questo argomento il volore didattico e formativo del wargame adesso vedremo un po perché didattico e formativo che sembrano dei sinonimi in realtà del tutto sinonimi non lo sono o io qui parlo di wargame per sintesi diciamo così ma dove leggete wargame pensate a gioco di simulazione storico in generale quindi non soltanto la simulazione militare ma anche la simulazione politico militare la simulazione economica la mera simulazione politica le forme di abilitazione un po tutto quello che il gioco di simulazione storico in parte e in parte ci butta anzi neanche tanto in parte anche il gioco di simulazione fantastico e vedremo come in che modo perché anche se non c'è una didattica diretta perché parliamo di mondi fantastici in cui appunto non hanno un legame diretto con la storia reale con la storia effettiva però rientra anche quello per molti versi e per molti versi devo dire anche il il gioco in generale però qui ci concentriamo sull'aspetto del gioco di simulazione ultimissima premessa e poi cominciamo questa puntata all'audio di questa puntata è sottoverendo un po come vorrei metterlo anche come podcast come puntata il podcast e 100 point charlie così la potete sentire so che molti apprezzano questa forma magari la sentono in macchina quando camminano quando fanno altre cose certo non vedranno le slide che ho preparato comunque sia già dal punto di vista dell'audio dovrebbe essere sufficiente per comprenderli che cosa stiamo parlando e allora adesso andiamo un po a parlare il valore didattico e formativo del wargame tutti noi conosciamo sappiamo benissimo che tramite il wargame tramite il gioco di simulazione storico si può fare attività didattica un gioco su waterloo può essere un utilissimo ausilio didattico per appunto per imparare per insegnare mostrare che cosa è successo a waterloo può essere appunto fatto in un ambito scolastico quindi di insegnamento o in un ambito magari pubblico di un pubblico quindi di divulgazione non sono assolutamente la stessa cosa hanno moduli i registri diversi di comunicazione queste queste due attività però siamo siamo un po lì questa è l'ambito in cui ci muoviamo ma c'è anche un altro valore che il valore formativo del wargame e adesso cominciamo un po a capire di che cosa stiamo parlando perché e cominciamo in come sempre come sempre qui sentite fare a mira ovviamente come sempre da una da una domanda e la domanda che ci poniamo è ma davvero quello che noi consideriamo come il gioco di simulazione quello che noi chiamiamo gioco di simulazione è soltanto un gioco oppure c'è qualcosa di più sotto gli esami oppure c'è un valore che va al di là del mero intrattenimento che comunque sia è assolutamente fondamentale è il motore l'inizio e anche il proseguimento un po del tutto dell'attività ludica quindi non va assolutamente dimenticato o tralasciato o sottovalutato però c'è un valore al di là del gioco stesso nel gioco di simulazione succede qualcos'altro a noi che lo giochiamo o anche chi si trova in questa situazione anche a chi lo progetta perché adesso ci concentriamo su chi lo gioca veramente c'è qualcosa di più sotto gli esagoni questa è la domanda da cui noi partiamo e per chiederci se esistono altri valori altre tipologie di valori che siano al di là del mero intrattenimento e ovviamente la risposta sarebbe sì verrebbe da dire però attenzione non è non è così semplice tant'è che uno direbbe sì ma il gioco di simulazione ha un valore educativo no c'è la famosa certo che c'è un valore e questo valore è il valore del ludendo docere questo antico modo di dire latino che praticamente può essere tradotto come insegnare giocando o meglio insegnare tramite il giocare tramite il gioco come sempre l'aspetto timologico non è neutro ha una sua importanza nel latino vedete non è insegnare con il gioco ma è ludendo è una forma verbale e insegnare con l'attività di giocare insegnare con il giocare comunque sia a parte queste piccole finezze è chiaro che istintivamente ci viene da dire beh il gioco di simulazione appunto ha un valore educativo ma che cosa intendiamo con questa benedetta educazione perché quando noi utilizziamo questa questa frase ludendo docere spesso noi ci concentriamo molto sul l'aspetto ludendo cioè diciamo eh beh allora parliamo di come il gioco può essere utilizzato in un ambito educativo ma non andiamo a concentrarci abbastanza sull'altro termine docere cosa significa docere insegnare sì ma che cosa verso quale fine in che modo con quale intenzione con quale attitudine e andiamo a vedere perché questo docere questo educare ha diversi significati ea diverse forme che sono spesso non dico tanto in contraddizione ma magari non comunicano tra di loro e allora comunque sia sono fondamentalmente diverse allora quali sono queste diverse forme di educazione qui vediamo philip sabine in una gioco storica del 2016 nella manifestazione gioco storica del 2016 appunto qui vedete military education è già qui noi pensiamo educazione e la scuola e tutto quanto qui invece la education è un'educazione militare è un contesto già radicalmente diverso vediamo un po quali sono queste forme beh la prima forma è quella appunto quella che ci viene più istintiva la didattica uso il gioco per insegnarti qualcosa nell'ambito spesso di un contesto appunto di lezione frontale o anche sia interattiva anche gruppi di gioco eccetera per lo utilizzo nell'ambito di un'attività didattica di insegnamento nel senso stretto della parola poi ve n'è un'altra che è quello della formazione diretta vedete qui cominciamo introdurre questo concetto di formazione titolo di questo di questo presentazione appunto il valore didattico e formativo che cos'è la formazione diretta anzi che cos'è la formazione la formazione che ti devo trasmettere delle competenze la formazione diretta che ti trasmetto tramite un gioco di simulazione le competenze che sono interne al gioco di simulazione stesso lo vediamo qui col nostro caro amico sabin al nostro caro amico professor sabin qui ci sono dei militari che stanno studiando dei wargaming che gli insegnano a pianificare un'operazione militare come si gestisce un'operazione militare quelle sono le conseguenze di una operazione militare quindi questa è una formazione diretta le competenze che io trasmetto sono interne al gioco poi c'è un altro tipo di formazione ed è una formazione indiretta ossia trasmetto delle competenze che sono esterne anche all'ambito della simulazione all'ambito del gioco stesso e poi ne parleremo più in dettaglio ma che possono essere appunto delle cositte soft skills per esempio il lavoro di squadra e queste cose qui come vedete formazione già vedete che è un concetto un pochino non dico più ampio di didattica perché sennò uno va a sminuire la didattica però è un concetto un attimo più diversificato ecco quindi non ci troviamo in una situazione di insegnamento cui ti sto insegnando la storia non ci troviamo una situazione di formazione diretta in cui ti sto dando delle competenze tramite il gioco che sono interne al gioco stesso il gioco ti insegna come fare certe cose quando il gioco ti insegna come sono avvenute certe cose è didattica quando il gioco ti insegna come fare certe cose è una formazione diretta la formazione indiretta è quello che tu hai fatto le decisioni le nozioni che tu hai preso anche le competenze che tu hai preso nel gioco servono indirettamente per sviluppare altre competenze che sono esterne al gioco stesso quindi pianificando un'operazione militare magari capisci come si può fare come si può gestire un'iniziativa economica ok l'ho detta in maniera brutalissima non è proprio così poi insomma ci sono tantissime cose però per esempio pianificando una campagna elettorale un gioco di simulazione politico impari il gioco di squadra la gestione delle risorse di gioco di squadra che ti potrà servire per esempio nella tua attività lavorativa economica infine l'ultimo e questa è la cosa più interessante almeno per quello che mi riguarda che è un po' il noccio il motivo per cui c'è questa presentazione è la cosiddetta formazione generale la formazione generale poi vedremo di che cosa si 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 parla ma è ancora più ampia della formazione in diretta perché spesso opera non tanto a darti delle competenze darti delle soft skills darti delle nozioni specifiche o insegnarti in un contesto didattico ma ti insegna a pensare in un certo modo a vedere il mondo in un certo modo a gestire il mondo in un certo modo ed è ancora prima della formazione in diretta ancora più ampia non è una competenza specifica ma è un modo di pensare e sono delle risorse delle metodologie degli approcci diversi alla comprensione del mondo e della gestione del mondo stesso ora vedremo di che cosa stiamo parlando cominciamo nello specifico e cominciamo a parlare di dati di dati la prima cosa è chi ha detto che la storia è noiosa spesso noi vediamo nei film perfino in harry potter per dire in harry potter l'academia di magia la scuola è insegnata da un fantasma noiosissimo la storia della magia invece la storia della magia è una cosa meravigliosa è una cosa esaltante è una cosa viva il gioco aiuta tant'è che gli servirà un sacco a harry potter questa benetta storia della magia alla fin fine quindi altro che noiosa è qualcosa di vivo e il gioco aiuta a mantenerla viva a mantenere una immagine diversa della storia insi scusatemi la finalità la finalità della didattica dell'uso del gioco a fini didattico in ambito la didattica e comunque sia la finalità della didattica in quanto tale trasmettere delle conoscenze trasmettere delle nozioni e ci si riesce tramite il gioco anche tramite gioco ovviamente è solo uno dei tanti strumenti ma l'idea che la didattica debba trasmettere conoscenze come qui vediamo un po di casi perché si anche qui si fa presto a dire è vabbè didattica un po di riflessioni e di teoriche che sono state fatte e di esperienze pratiche che sono state fatte sulla didattica le riflessioni l'abbiamo visto prima con Resor Sabin e Philip Sabin due testi fondamentali Simulating Wars e Lost Battles che sono Simulating Wars scusate mi ho sbagliato nel testo Simulating Wars che lo vedete qua anche nella copertina ha appunto un po' enucleato quelli che sono i principi generali dell'utilizzo del gioco come forma di studio di approfondimento lui dice in Simulating Wars studying conflict sui simulation games quindi conflict l'idea di conflitto però ovviamente può essere applicata anche l'idea che cioè quel conflitto che è stato rappresentato lì il gioco su Waterlot ti insegna a Waterlot lui ovviamente parte vede che comincia già ovviamente a proiettare in avanti e ovviamente parla di conflitto in generale Lost Battles è un altro suo testo fondamentale da questo punto di vista e sono delle diciamo così delle riflessioni teoriche sull'utilizzo didattico e informativo del working e del gioco di simulazione abbiamo appunto alcune esperienze dirette all'università di Torino con Alonso e Fassone che hanno un proprio seminario un proprio corso di approfondimento sulla modellazione di un gioco di simulazione e anche l'università di Genova il professor Repetti il professor Alonso e Fassone il professor Repetti vedete come si stanno creando anche in Italia e in Italia ci sono sempre stati hanno stato un forte interesse dal punto di vista della storia della ricerca storica per il gioco di simulazione e adesso si sta ampliando anche dal punto di vista proprio universitario però abbiamo anche delle esperienze pratiche in Italia abbiamo parlato prima di Mauro Mauro Feina wargamer didattica che è un utilizzo del gioco in ambito scolastico Marco Mengoli con il non wargamer e con il suo podcast io dico sempre di andare a sentirlo le sue bellissime raccolte di puntate del suo podcast in cui ripercorre le imprese di Alessandro Magno o l'epopea napoleonica dalla rivoluzione in avanti o tanti altri momenti della storia tramite i giochi quindi giocandoli e spiegandoli mentre giochi con quello che succede nel gioco bellissimi assolutamente andate a recuperarli e poi altre esperienze che ci sono state vari vari eventi e le convention ludiche e non ludiche quindi anche pubbliche ricordo la storia in movimento che abbiamo fatto con la federazione italiana wargame run wargame gathering del 2019 ma comunque se andate in una convention ludica se andate a vedere quella cosa che nessuno va a vedere mai che invece è importantissimo il programma delle conferenze all'atere troverete spesso almeno una conferenza sul gioco e storia e quindi sul utilizzo del gioco come forma di didattica storica quindi sempre cose molto molto interessanti penso soprattutto a play di modena ma non solo in generale c'è sempre qualcosa di questo un caso specifico è il caso legge nove onore legge nove onore è un gioco di carte che l'altro l'ho usata ma che mingoli ci sono diverse puntate del nuovo game sono legge nove onore in cui voi utilizzate le carte gioco di carte per rappresentare la vita di un di un soldato nella grande armada di napoleone tutto quello che gli succede dalla rivoluzione fino al fino a fino a vaterlo e il caso perché il calco mente questo ha un aspetto storico estremo perché voi vivete da un lato i grandi eventi storici ma li vivete dalla prospettiva dal punto di vista di un singolo individuo il caso è stato che un professore svizzero ha messo su borgen geek una serie di schede di approfondimento che lui utilizza con le sue classe quando quando appunto utilizza legge nove onore come supporto didattico in classe bellissime epoca per epoca perché il gioco va avanti epoca per epoca campagna militare per campagna militare quindi questo utilizzo questo è un ottimo esempio di utilizzo dal punto di vista didattico del gioco la didattica però noi spesso ce la immaginiamo soltanto una lezione classica lezione frontale diverse forme ci sono anche delle forme non convenzionali di didattico che non sono frontali se non sono necessariamente nell'ambito scolastico sono appunto anche pubbliche spesso ci sono c'è un forte dialogo con diverse strutture museali penso a due casi il museo storico dell'aeronautica militare in cui andrea angiolino che c'è una bellissima partita dal vivo del gobo maledetto il suo libro gioco fatto con assieme all un altro grande studioso dell'aeronautica italiano gregory alleggi e appunto una partita pubblica sotto appunto un sacco gli marchetti che era lo stesso sacco gli marchetti che si stava simulando nel gioco bellissimo ma anche il museo della repubblica di montefiorino se vi ricordate abbiamo parlato del bellissimo gioco repubblica ribelle che loro hanno fatto appunto sulla repubblica partigiana di montefiorino quindi anche qui è un utilizzo molto molto interessante ma abbiamo anche dell'utilizzo nell'ambito di eventi pubblici non formale non necessariamente frontale ricordo ricordo questo padre se lo ricorderà soprattutto il primissimo anni 80 fu fatto l'isola tiberina a roma nell'ambito dell'estate romana quattro strade per batterlo c'erano quattro maxi schermi che facevano vedere ciascuno un pezzo di una delle quattro battaglie della campagna di batterlo al pubblico e chiedendo al pubblico di intervenire per appunto per influenzare la scelta e l'andamento della battaglia questo è un utilizzo spettacolare si dovrebbe rifare in che modo rifare e poi qui e questo è un po' nel senso per esempio nel mio contributo a mettere in gioco il passato un volume sull'utilizzo del gioco nel contesto di public history pubblicato da unicopi il wargame come public history diffusa il wargame il gioco di simulazione storico non è soltanto una lezione io ti insegno questo ma se io prendo un wargame me lo porto a casa e comincio a fare public history quindi avvicinamento alla storia non formale non necessariamente didattico interattivo in ciascuna casa in maniera libera in casa mia nel mio salotto con il titolo che scelgo io poi vengono i miei amici ci giochiamo i miei amici vengono a sapere aspetta che su questa stessa battaglia c'è un altro gioco che la prende da un altro punto di vista e così si fa una public history diffusa individuale libera e poi tutto e poi un altro contesto per esempio di forma non convenzionale di utilizzo del gioco in ambito didattico ma qui anche di ricerca è la didattica la ricerca controfattuale cioè il fatto che il gioco è il gioco di simulazione è uno strumento di storia controfattuale cioè di valutazione ponderata delle alternative storiche che non si sono mai verificate però cercare di capire come sarebbe andato sì come sarebbero andate le cose se in maniera scientifica in maniera ponderata quantomeno fare delle ipotesi plausibili per capire meglio come invece è andato vedere queste dinamiche in un altro contesto per capire in realtà il contesto maggiormente il contesto in cui si sono sviluppate attaccare in un certo modo a viviamo battle for course di trevor bender che è un maestro di storia controfattuale e per esempio ha inserito diverse ipotesi in questo wargame molto semplice sulla battaglia di kursk seconda guerra mondiale 1943 e ti fa capire cosa sarebbe successo se fossero stati sovietici e non i tedeschi ad attaccare oppure se tedeschi avessero attaccato in un'altra maniera un altro punto ovviamente sono sempre delle illazioni sono sempre delle supposizioni però appunto sono ponderate e l'accumularsi di queste di queste ricerche controfattuali può darci una migliore comprensione di allora è per questo che è successo questa cosa in realtà quando hanno fatto quest'altra hanno preso quest'altra decisione e una cosa del genere di genere abbiamo parlato io sempre mio padre nell'appendice delle battaglie che cambierò nel mondo sull'utilizzo del gioco di simulazione come forma di ricerca storica come strumento di ricerca storica e ne abbiamo parlato anche in parte nel bellissimo quaderno sism la società di treni storie militari future wars 2016 che ricordo da adesso il sito della sisma è liberamente scaricabile nella sua interezza ed è tutto sulla storia controfattuale e anche nella quaderno nam nella nuova antologia militare del 2022 nell'ambito delle dello studio della storia militare medioevale e in cui abbiamo parlato dell'utilizzo del gioco di simulazione come strumento di ricerca nell'ambito della storia militare medievale quindi anche qui aspetti molto molto interessanti come vedete queste sono le diverse possibilità poi ce ne sono molte altre di utilizzo del gioco in un ambito propriamente didattico ripeto è trasmettere conoscenze la cui finalità ripete trasmettere conoscenze quindi in sintesi la didattica insegna come sono andati i conflitti del passato ok i conflitti che si sono avverati realmente o andiamo a vedere invece la formazione che diretta gli attrezzi nel mestiere formazione diretta ti insegna a fare qualcosa infatti la sua finalità è quella di trasmettere delle competenze le competenze dirette sono competenze che sono interne al gioco un gioco su di una campagna elettorale dicevamo prima ti insegnerà a come si gestisce una campagna una campagna elettorale questa è una formazione diretta un gioco economico fra la stessa cosa un gioco militare fra l'altra nell'ambito la stessa cosa nell'ambito del proprio contesto quali sono le tipologie no le tipologie di giochi che hanno un utilizzo in un ambito di formazione diretta abbiamo giochi cosiddetti commerciali o tra virgolette civili danigan di mark herman chedwick brian train eccetera che sono quindi delle vediamo qui mark herman con i suoi giochi sono dei giochi che vengono anche utilizzati in contesti di formazione diretta quindi nelle accademie anche militari e non solo e appunto però sono giochi commerciali sono liberamente liberamente disponibili mark herman fra l'altro è famosissimo per il famoso aneddoto in cui il il dispiegamento durante l'operazione tempest anzi scudo nel deserto fu fatto partendo da uno dei suoi giochi perché perché al pentagono non trovavano nessuna rappresentazione abbastanza adeguata degli ordini in battaglia e si ricordano aspetta meglio l'altro giorno in un negozio di wargame ho visto un wargame che si chiamava golf strike che aveva proprio esattamente questo scenario e andare chiamarono di notte mark herman e lo tirano giù dal letto corsero a prendere un paio di scatole di questi giochi e li utilizzarono per le loro simulazioni per dispiegamento effettivo frank chedwig si vide arrivare una lettera a casa invece in cui c'era una compagnia di fanteria britannica che diceva scusate mi scusi signor chedwig ci scusi ma può rinviarci le pedine di questo suo gioco sa perché noi lo utilizziamo durante invece proprio tempesta dell'esercito quindi durante l'azione militare in iraq a noi lo utilizziamo per provare un po le le azioni del giorno dopo per sperimentare l'azione del giorno dopo per addestrarci sul campo però l'altro giorno è arrivata una tempesta di sabbia abbiamo perso tutte le pedine non le ritrovi più non è che era un'altra copia da mandarci queste sono storie veri brian train è un consulente canadese che appunto del governo canadese ma non solo che ha fatto diverse simulazioni per lui ibrido politico militari jim dunnigan grandissimo patron del wargame moderno creatore fondatore della spi quindi parliamo del wargame più classico ha poi lavorato moltissimo ha creato una serie di una lunga serie di simulazioni per punto per l'azione americana ma partendo dalle sue simulazioni commerciali oppure facendo il discorso all'inverso poi ritrasformando in prodotti commerciali quelle che sono delle quelle che erano le sue simulazioni professionali quindi come vedete eccolo qua il punto è verso l'altra tipologia di giochi che vengono utilizzati per la formazione diretta giochi professionali le esperienze qui sono veramente tantissime si ricorda in ambito cia quindi centri di intelligence studi strategici david clopper e folk runche con i loro giochi dedicati appunto alla raccolta di informazioni nell'ambito della caccia all'uomo di altre tipologie di attività di intelligence ma abbiamo anche tra l'altro una cosa interessante anche le donne sono assolutamente ci sono delle grandissime progettiche progettiche progettiste scusate progettiste di wargame wong e vojtovitz sono i primi due nomi che mi vengono in mente queste donne che sono tra le più affermate in ambito mondiale la faccia di chi è nome wargame non è le donne in realtà non interessano probabilmente interessano più quelli veri quelli professionali piuttosto che i nostri giochetti e poi il il centro della wargame society l'associazione di wargame della georgetown university che utilizza anche sia simulazione commerciale che simulazioni professionali tra l'altro vi ricordo 17 dicembre terrò una lezione una presentazione proprio ovviamente da remoto alla georgetown university alla appunto sulle forme di simulazione non lineare poi anche questo poi dopo vede l'ho già mandato poi mi rimanderò il link più in prossimità quindi esempi ma ci sono molti quindi molti esempi di giochi da questo punto di vista che sono appunto sia commerciali che professionali ci sono dei giochi anche che sono ibridi per esempio coin i coin nascono dall'attività della ricerca professionale in ambito professionale di runche dalla sua attività di designer fitna che è un gioco francese della naz è utilizzato via si viene dai modelli utilizzati dai centri di intelligenza francese per lo studio dei conflitti nel medio oriente district commander di brian train appunto ne abbiamo parlato anche lì è un po a cavallo dei due mondi cioè del mondo dei giochi commerciali civili quelli che troviamo in qualsiasi negozi dei giochi professionali che invece sono fatti per i centri di addestramento e i centri di intelligenza un caso anche qui l'ho messo diplomacy che è un gioco che è con noi dagli anni 50 che viene utilizzato normalmente alla john cabot university per roma ma in tantissimi altri contesti è un gioco commerciale che però utilizzato per insegnare la gestione delle relazioni internazionali ovviamente con tutte quante le prudenze del caso perché ovviamente ha ovviamente delle distruzioni per carità non è una simulazione diretta di per sé però eccolo qui può rientrare anche una simulazione un po così particolare non necessariamente una simulazione diretta dettagliatissima però rientra anche questo nell'ambito dell'attività della formazione diretta quindi vediamo un po alcuni che questi possono essere appunto con i proci pratici ricordando sempre che cregspiel prussiano nacque prima come divertimento ricorda poi arrivare al militare prussiani che disse che c'è questo sì il principino è tanto simpatico tanto tanto carino però gli dogliamo sto gioco lui se vuole ci giocano intanto lo trasformiamo in qualcosa di militare effettivo di uno strumento di strumento professionale e qui appunto per esempio qui a se non immagino in sinistra vedete appunto un esempio di cregspiel dei vari delle varie tipologie che si sono succeduti poi dopo verranno introdotti gli scenari storici ma prima il cregspiel aveva degli scenari ipotetici è soltanto dopo diversi anni che qualcuno ha l'idea più dei civili paradossalmente che dei militari ma perché non utilizziamo sempre questo bel gioco per ricordarci la battaglia tal dei tali la rifacciamo sulla mappa vera non su di una mappa ipotetica non rossi contro blu eccolo qua abbiamo parlato di david clopper e folk run che appunto rapporto strettissimo tra gioco di simulazione centri di intelligence collection kingpin appunto sono giochi quelli che sono nati in ambito in ambito sia ma abbiamo visto anche fitna che è nato all'interno della comunità di intelligence francese poi la grande esperienza dei mega games una specie di wargaming 2.0 che sono la metà tra dei giochi di comitato giochi di simulazione e appunto wargaming di comitato in matrix games questi un po ne parlo né nel gioco di arianna e anche in altri in altri contesti comunque trovate tutta la documentazione io li sto soltanto citando in maniera molto sintetica altri esempi di approcci ritrovati in on wargaming di caffrey che fra l'altro è anche questo disponibile liberamente in pdf lo cercate lo trovate testo fondamentale quindi gli approcci sono molteplici in ambito di formazione diretta in sintesi che cosa vuole fare la formazione diretta che cosa fa insegna a gestire un conflitto vedete un conflitto non quel conflitto lì che è stato simulato in generale un conflitto tramite la rappresentazione del conflitto ipotetico tramite la rappresentazione del conflitto che si andrà a combattere il caso di gaff strike oppure tramite la rappresentazione di un conflitto storico che però insegna al ti dà le competenze dirette necessarie per gestire discorso un po diverso quello della formazione in diretta che ci ampliamo un pochino e anche qui sono altri attrezzi del mestiere ok anche qui sono altri attrezzi del mestiere e sono più che altro gli attrezzi materiali del del mestiere la formazione in diretta la sua finalità è quella di trasmettere delle capacità ok di nuovo rimaniamo nell'ambito degli attrezzi del mestiere ancora ma sono attrezzi più ampi ok trasmette capacità che sono diverse dalle competenze come sono queste capacità sono le cosiddette spesso soft skill quindi ne ho buttate giù alcune ma sono veramente tante definizioni del processo nel flusso progettuale il team building la gestione delle risorse il lavoro sotto pressione la priorizzazione degli obiettivi la finalizzazione della relazione vedete poi ce ne potete mettere in generale che esulano dallo scenario in quanto tale io imparo per esempio in gestire una battaglia navale con senso glori ogni nave ha le sue caratteristiche imparo si comando un team in cui ognuno c'è la sua nave capisco quali sono le caratteristiche della singola nave e le utilizzo al meglio questo mi aiuterà in un ambito di un lavoro di gruppo di un progetto di gruppo a appunto a gestire al meglio gestire al meglio quel quel contesto quella quel tipo di azione anche quindi non mi servirà più per fare una battaglia ma potrà servire per un progetto per un progetto di di realizzazione di un sistema informatico per dire la prima cosa che mi ha detto con tutte queste cose ma ce ne sono veramente tante qual è il problema di queste qualche soft skill già formazione in diretta come vedete comincia a diventare un po vago e qui abbiamo diverse criticità possibili l'approccio per esempio talvolta può essere un po troppo generico le metodologie possono essere improvvisate può esserci non può esserci una grande professionalità da parte chi lo utilizza il gioco per formazione in diretta non dico sempre però sono criticità che esistono che è veramente difficile fare buona formazione in diretta tramite il gioco attenzione c'è il tragico lo che definisco il tragico equivoco della gamification ma tutto diventa gioco ma non si capisce neanche gamification che cos'è non è raccogliere i punti della della miralanza fare il punteggio per qualsiasi cosa né semplicemente basta fare il giochino sulla raccolta differenziata per di per sé insegnare tramite la specie il gioco dell'oca che cos'è la raccolta differenziata qual è la sua importanza non è così semplice si può fare ma è appunto è difficile vi sono poi altri rischi ancora forse ancora più vaghi rischio che il gioco diventi un po troppo di moda diventi una attività un po troppo alla moda no ne parlo spesso anche in articoli eccetera che si sia bello così fare il gioco e quindi si perda un po il valore del gioco anche tramite una mera commercializzazione del gioco la trasformazione gioco in mero prodotto commerciale il gioco è un prodotto commerciale è chiaro perché un prodotto editoriale qualsiasi anche un libro qualsiasi prodotto editoriale romanzo è un prodotto commerciale di per sé però questo non significa che la commercializzazione l'aspetto commerciale debba superare o suppiantare completamente l'aspetto culturale purtroppo un po in alcuni giochi questa cosa si vede anche di gioco di simulazione un po meno però c'è questo è un ambito più una cosa che c'è soprattutto nel game eccetera qui si fa il dodicesimo gioco sempre con le stesse meccaniche solo per venderti magari il paccone con le miniature con 50 cose però alla fine vedi che c'è poco però anche questo e attenzione fare molta attenzione perché in questo ambito vi possono essere invece qui c'è un po il dolo prima stava un pochino nella colpa nel dolo eventuale qui invece c'è il dolo effettivo l'inclusione dei contenuti finalità esterne faccio un gioco per fare magari un messaggio di propaganda di qualcosa che perché in realtà ti voglio inculcare un certo punto di vista questo purtroppo succede nel prato angiolino diverse volte in diversi testi e casi per i più giochi che sono stati fatti durante la dittatura in vari tipi di dittature di qualsiasi tipologia colore non vi preoccupate anche il gioco è diventato strumento di propaganda quindi attenzione perché appunto questo può insegnare cose anche può anche fuorviare con questi a dare rappresentazioni o indicazioni per la realtà ma in sintesi la formazione indiretta che cosa fa insegna a gestire delle situazioni simili ad un conflitto quindi diciamo appunto la competenza che ci dia è esterna al allo scenario del gioco quindi c'era da per analogia per analogia quindi delle situazioni simili ad un conflitto entriamo adesso il qualcosa di più la formazione generale che è un buon nocio della questione in questa benedetta formazione generale di che cosa parliamo qual è la finalità dell'utilizzo del gioco a formazione in come formazione generale momento di formazione generale beh che è complicato ok qui è complicato allora vediamo un po quali sono le tipologie di formazione generale che il gioco può dare che cosa può insegnare da questo punto di vista per esempio insegna a gestire insegna a gestire i propri limiti tramite un'accettazione comune delle regole attenzione vedete queste sono leggermente diverse da delle soft skills perché soft skills comunque parliamo di 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 competenze comunque sia anche se più generali però che ci sono no no qua noi parliamo proprio di educazione nel senso più alto del tempo di formazione anche caratteriale gestisce ti insegna a gestire i limiti citazione comune delle regole ti insegna a gestire le risorse che hai dirette e indirette quindi a capire che cosa hai in mano di risorsa come lo puoi utilizzare meglio cosa puoi fare cosa non puoi fare e il cosa puoi fare come lo devi fare gestione anche del rischio della casualità ponderata e così sto dato di herman mark herman sul bellissimo articolo si tre hai dice ma sono il caso è fondamentale nel gioco di simulazione come sempre l'alea e non è vero che l'alea uccide la strategia che il tiro del dato c'è la strategia perché prima il tiro di dato c'è una marea di modificatori e tu ti devi creare tutta una serie di situazioni che ottimizzi i risultati possibili che ti sposti il risultato verso una maggiore probabilità possibile di successo poi se c'è di successo devi gestire anche quello e anche quello poi lo vedremo subito dopo ma soprattutto è ragazzo mio tu devi crearti la situazione se tutta la tua partita dipende da un unico tiro di dato che se viene dispari hai perso se viene pari hai vinto non hai fatto una grande strategia e anche questo è un suo insegnamento ecco perché l'alea non è assolutamente la morte della strategia lo dico sempre l'alea è non dico la condizione della strategia perché è esagerato però comunque sia ecco una garanzia di esistenza di un aspetto strategico all'interno del gioco se c'è un'alea attenzione non arbitraria non a caso non paro disparo e così ma ponderata modificata manipolabile gestibile allora c'è strategia e poi abbiamo detto la gestione del fallimento del successo anche con aspetti psicologici ricordate if di rudyard kipling trattare incontrare il successo il fallimento e trattare lo stesso modo questi due questi due impostori esattamente così gestire la sconfitta ma ancora meglio gestire la vittoria che magari vinci in un punto già ho vinto poi in realtà alla lunga la partita la vai a perdere anche questo è un insegnamento molto ampio molto utile molto importante un'altra cosa di un altro aspetto di formazione generale del gioco è il pensare pensare vi insegna diversi tipi di pensiero pensiero strategico la visione di insieme il pensiero generale la pianificazione insieme vedere tutta una situazione la pianificazione ok adesso fare questo 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 e questo pensiero immediato l'attuazione del punto a punto b punto c punto d se no il pensiero matematico studiare le relazioni tra gli elementi in gioco vedete qui questa mappa con tutti quanti questi bei punticini verso questo tutti elementi che sono in relazione tra di loro alcuni sono confinanti con i miei altri sullevano avere il supporto di alleati altri invece possono rimanere da soli ma studiate tutte le relazioni tra questi singoli elementi poi le carte poi le risorse che avete qui vedete amplissimo il discorso pensiero laterale arrivare per via alternative non necessariamente magari il confronto diretto ma trovare una via alternativa magari non so indurre un avversario all'errore oppure trovare una nuova via imprevista il pensiero è il pensiero non lineare multidimensionale ragionare su più dimensioni in questo caso i coin sono fondamentali ragionare che magari un conflitto è asimmetrico e regolare se provate a giocarlo direttamente con un conflitto diretto sul campo lo perdete ma magari potete agire dal punto di vista politico o economico contro le risorse contro la capacità di combattere dell'avversario quindi gestire un discorso su più dimensioni formazione generale ancora altro aspetto che vi da di formazione generale il gioco di simulazione il gioco in generale ma il gioco di simulazione in questo caso è il capire cioè comprendere effettivamente una situazione ma non solo quella situazione lì qui abbiamo tolè straga non solo a capire la guerra fredda ma tutto anche il mondo come o tramite la comprensione di quelle che possono essere delle relazioni internazionali quindi vi aiuta ad acquisire ulteriori e più affinati strumenti interpretativi della realtà vi aiuta individuare quelle che sono le dinamiche dominanti a togliere tutto il rumore di fondo e capire ok ma in realtà di questa situazione solo questo questo e questo sono importanti tutto il resto è fuffa il resto è solo fumo vi aiuta a capire ad avere una migliore definizione dei legami tra di causa effetto tra i diversi tra i diversi elementi la valutazione anche del fattore caso e di nuovo del fattore aleatorio che cos'è il caso ma il caso è anche qualcosa che ci manipoliamo noi di nuovo il dato diamo altra cosa andiamo avanti ed è la comprensione la comprensione è qualcosa anche di più di capire e avere una sensazione generale una percezione generale di una situazione in generale di un momento di un aspetto del mondo il gioco gioco di simulazione vi aiuta a considerare nuovi punti di vista che lo chiamo l'effetto peking che ha visto croce di ferro o il mucchio selvaggio sa che pecca in piena pecca impara maestro di fare dei film della parte dei tra virgolette cattivi o dei cattivi veri e propri anzi prendeva i cattivi croce di ferro è tutto visto da parte della parte dei soldati tedeschi nel fronte orientale ma attenzione non c'è minimamente giustificazione no però ti fa capire certi punti di vista per esempio in quel caso era un gruppo di soldati che stava semplicemente cercando di sopravvivere non è giustificazione e comprensione ovviamente molto diverso e per esempio il di simulazione un'altra caso un'altra cosa che ti insegna è la splendida 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 asciuttezza della matematica o il dato è quello la statistica è quello puoi tirare su quello che vuoi ma se il dato dice una cosa il dato è sentenza il dato è cassazione e sono tutte relazioni matematiche ma queste relazioni matematiche e torniamo anche ad un altro aspetto della comprensione che nascono da un'indagine storica fatta dall'autore e questa indagine si esplica tramite dei parametri che potete tranquillamente e liberamente modificare d'intesa ovviamente con gli altri giocatori e quindi potete non vi piace quel modificatore quel più due dato se unità sta in foresta perché in realtà in foresta non era così drammatico allora cambiate a più uno e vedete che cosa significa pure abbiamo parlato nel video dell'utilizzo del wargame come forma di sandbox di gioco sandbox non vi convince il fatto che age in cure sia avvenuto in una certa maniera in un certo punto della mappa con certe truppe le cambiate sono dei sandbox i giochi quindi verificate altre ipotesi le volte sono gli stessi autori a darvelo oppure questa cosa oppure lo trovate da per voi e questo vi aiuta anche individuare rimuovere cosiddetti bias i pregiudizi gli errori di comprensione quelle che possono essere per esempio delle conclusioni di un'indagine storica perché ha una certa formazione culturale e anche appunto vedendo la cosa da diversi punti di vista vi togliete dei pregiudizi i cosiddetti bias questi errori di interpretazione di comprensione e questo avviene a livello molto profondo e anche vi aiuta a individuare il bias il tipo vedete no capa io ho sempre pensato che le cose fossero così però è vero adesso capisco che effettivamente c'era anche questo aspetto della vicenda e bella vi aiuta a riconsiderarla e a comprenderla meglio in maniera nuova da qui arriviamo all'interpretare utilizzo continuo e regolare nel gioco di simulazione vi darà una nuova visione della storia con cose assolutamente di vivo e anche della realtà una conoscenza che non sarà formale solo delle nozioni dentro un libro ma finalizzata all'utilizzo perché quelle nozioni voi le utilizzerete in un vostro contesto per ottenere dei risultati che voi stessi avrete definito con delle metodologie che voi stessi avrete definito una cosa in cui il gioco analogico è particolarmente efficace perché anche rispetto a quello per computer il gioco per computer è un motore che è assolutamente ignoto a voi tutta una serie di operazioni perché era molto più dettagliata ma totalmente ignote e sono degli algoritmi nascosti mentre invece il gioco di simulazione analogico da tavolo sono gli algoritmi invece scoperti palesi perché perché li dovete gestire voi perché siete voi il motore del gioco quindi siete voi che andate a prendere la tabella capite che una unità si muove di due caselle anziché di tre in una certa condizione questo però da un approccio critico un approccio libero alla storia che vedete anche la mobilità della storia e anche la possibilità voi stessi di modificarlo di modificare i parametri anche di modificare una certa visione storica una certa interpretazione storica quello che io chiamo la quasi la scandalosa libertà del wargame perché non dico che a qualcuno dà fastidio non voglio fare completista però certo questo va contro delle visioni sempre monotematiche monodirezionali della della ricerca storica della narrazione storica e recupera in un certo senso il poi zinghiano del gioco o e zinga parliamo sempre grande autore questo grande studioso del concetto di gioco che dice il gioco e cultura anzi la cultura e gioco lui arriva addirittura all'altro punto di vista che la cultura nasce in un certo senso come gioco con molti aspetti simili al gioco e quindi senso di zinghiano del gioco io intendo il zinghiano del gioco intendo il senso più alto più elevato di prodotto culturale e lo recuperate e in sintesi aumenta la consapevolezza io dico sempre che il gioco di simulazione ha tre regole da tre cose fondamentali che sono le tre c po come il caffè però sono però coinvolgimento ripeto il divertimento l'abbiamo detto è fondamentale la conoscenza perché vi fa conoscere determinati aspetti di una realtà sia storica che non storico e anche qui eccola qua la consapevolezza è una nuova visione del mondo percezione più ampia una capacità anche degli strumenti di comprensione del mondo più elevati quindi anche qui in un certo senso degli attrezzi del mestiere un po come è stato nel caso della formazione diretta formazione indiretta ma altri ancora più ampi ancora più e in conclusione ecco io qui l'aquila ho voluto farlo perché cito spesso le parole di un caro amico di salvatore sant'angelo che in conclusione vorrei ringraziare che l'organizzatore di sulle tracce del drago cito sempre le parole di un suo amico lorenzo mancinotti la vita è tutta una manovra troppo io non ho mai avuto modo di conoscerlo ma appunto salvatore sant'angelo spesso appunto lo ricorda purtroppo è venuto a mancare molto presto e una delle frasi che diceva sempre lorenzo è che la vita è tutta una manovra mentre facevano i loro game i loro giochi eccetera in realtà questa cosa del gioco di simulazione di fare tutte queste manovre in vista degli obiettivi ci insegna a vivere perché la vita è tutta una manovra non è soltanto il gioco quindi qui recuperiamo questo concetto di valore che didattico certo ma anche formativo nel senso più elevato educativo nel senso elevato del gioco di simulazione io spero di avervi interessato eccolo qua paramil che avete sentito all'inizio del l'inizio della della puntata e spero che cosa vi abbia interessato ci tenevo appunto a prevedere anche questa questa presentazione e appunto di nuovo ringrazio salvatore sant'angelo e tutti gli organizzatori tutti gli amici di sulle tracce del drag 2022 in attesa e come sempre anche in questi casi io vi do appuntamento ai prossimi episodi e vi ringrazio per essere arrivati arrivati fino a qua e vi auguro buon divertimento e come sempre ricordatevi niente paura sono solo ciao